L'Accademia di Agricoltura ha inaugurato per il quarto anno consecutivo a Palazzo Lascaris l'anno accademico. Nata come società agraria, ha svolto un ruolo fondamentale nell'Italia preunitaria, dove si occupava di risolvere, ottenendone anche vantaggi economici, i problemi della produzione agricola e dell'occupazione, secondo i concetti luministici e fisiocratici di quel periodo. Negli anni più recenti, l'Accademia ha proposto e ottenuto in accordo con l'Università e il Comune di Torino l'istituzione nel 1936 della Facoltà di Agraria presso l'Aterio Torinese e la realizzazione nel 1980 del corso di laurea in Scienze Forestali.